La ripresa in Europa è ancora a rischio. L'avvertimento viene dal presidente della Banca Centrale Europea al termine della riunione del direttorio dell'istituto. Il board ha deciso di lasciare i tassi allo 0,75%, dopo le parole di Draghi, contrastate e altalenanti le borse europee. Il PD decida o il patto con il PDL o le elezioni anticipate. È l'out-out lanciato dal sindaco di Firenze Renzi. Persino la Chiesa, ha aggiunto l'ex candidato alle primarie, ha fatto prima di noi. Gelo dai bersaniani. La sua non è la linea del partito. Nel pomeriggio intanto faccia a faccia tra Bersani e il presidente del Consiglio Monti. Nel PDL invece prevale la linea attendista in vista degli sviluppi sulla partita del Quirinale. Dalle rivelazioni sui conti all'estero di politici francesi sta prendendo corpo quello che alcuni giornali d'oltrealpe definiscono uno scandalo fiscale planetario. Un database con i titolari dei conti nei paradisi fiscali è infatti nelle mani di una rete di testate. 200 gli italiani coinvolti nell'inchiesta giornalistica battezzata Offshore Leagues. Voglio difendermi, voglio essere ascoltata dai magistrati. Così Karima Elmarug, meglio conosciuta come Rubi, oggi davanti al Tribunale di Milano durante la protesta contro magistrati e avvocati che non l'hanno convocata come parte offesa nei processi a carico di Berlusconi per prostituzione minorile. Rubi si è anche scusata di aver mentito sulla parentela con Mubarak. Sono accusati di appropriazione in debita ed emissione di fatture false per 14 milioni. Ai domiciliari l'ex consigliere delegato dell'IDI di Roma, padre Franco De Caminada, e due imprenditori. Il servizio. In principio erano Sant'Ignazio e Sciascia, da oggi in todo modo far rima con il caso IDI. La Guardia di Finanza ha ribattezzato così l'operazione che ha portato ai domiciliari l'ex consigliere delegato del comparto ospedaliero romano, padre Franco De Caminada, e l'imprenditore Antonio Nicolella. In carcere è un altro imprenditore, Domenico Temperini. Sono accusati di aver distratto 14 milioni di euro dal patrimonio dell'IDI, spiega il tenente colonnello Gavino Puzzo. Questi soldi sono stati sottratti nelle casse del comparto sanità dell'IDI, in parte in contanti e in parte attraverso l'utilizzo di fatture false. 4 milioni, secondo la tributaria, di cui si sarebbe appropriato padre De Caminada. Le indagini rinascono dalla crisi dell'IDI, commissariato dal Vaticano, dove da mesi i dipendenti protestano per il mancato pagamento degli stipendi. Riguardano la situazione di grave dissesto in cui versa il comparto idifianità nel suo complesso, quindi l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, il San Carlo di Nensia e Villa Paola. 10 le persone indagate, 14 le perquisizioni, sequestrato un immobile in Toscana, valore un milione di euro. Sette compagnie petrolifere al centro di un'inchiesta avviata dalla Procura di Varese e condotta dalla Guardia di Finanza. I magistrati sospettano l'aumento illecito del prezzo della benzina, non giustificato dall'andamento del mercato. L'indagine, iniziata un anno fa, è scatturita da un esposto del Kodakons. Sostituiremo Equitalia con un ente di riscossione regionale entro la fine dell'anno, lo ha annunciato stamattina il governatore della Lombardia Maroni nel suo discorso programmatico. La riscossione dei tributi, ha detto, deve tener conto del contesto sociale. Calano ancora i prezzi di vendita delle case, a causa della difficoltà economica del Paese. Nell'ultimo trimestre 2012, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice registra una diminuzione dell'1,5% rispetto a quello precedente e del 4,6% nei confronti dello stesso periodo del 2011. Si tratta del quinto calo congiunturale consecutivo dalla fine del 2011. Dispiegato dal Pentagono, il sistema antimissile sull'isola di Guam, nel Pacifico. Obiettivo, proteggere la base militare americana dopo le minacce della Corea del Nord di un possibile attacco atomico contro gli Stati Uniti. Provocazioni riprovevoli, tuona il Giappone. Pyongyang ha anche trasferito un missile a medio raggio sulla costa est per un test di lancio. Tre giorni di lutto nazionale in Argentina per le inondazioni seguite alle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Almeno 54 morti tra La Plata e Buenos Aires, decine di migliaia gli sfollati. Il Papa ribadisce parole di vicinanza e chiede alle istituzioni civili ed ecclesiastiche di portare aiuti.